Ciao ragazzi e bentornati, sono appena arrivato a casa da Piazza Duomo dove abbiamo accolto la squadra e che dire è stata una festa meravigliosa, è stata una festa meravigliosa ed è giusto celebrare questi ragazzi perché hanno fatto una stagione straordinaria dove hanno ammazzato il campionato da febbraio in avanti e dove non hanno mai smesso di fare record su record parliamo anche di Inter Torino perché dobbiamo fare cronaca, era una partita che non contava niente difatti era una passerella, primo tempo un po' così e così con il Toro che ha avuto due occasioni importanti poi nel secondo tempo Tamese viene espulso giustamente anche di giallo sulle azioni del genere grazie a Dio che c'è il VAR che ci ha risarcito di un rosso sacrosanto la partita ovviamente cambia, Ciannologo fa un grandissimo gol e sempre lui raddoppia su un rigore netto che ha procurato la Turam e da lì di fatto la partita è finita il Torino era venuto a Milano con delle motivazioni importanti però non è riuscito a fare il risultato a Milano, è andata così e per quanto riguarda i festeggiamenti Barella era il più scatenato di tutti capo popolo faceva partire i cori insieme a Di Marco MVP per me però a Dumfries Dumfries è stato veramente nel bene o nel male l'MVP non mi è piaciuta quella cosa lì quello striscione con Teo Hernandez tenuto al guinzaglio non mi è piaciuto neanche quello striscione milanista chiacchierone lasciate la goliardia a noi voi siete tesserati evitiamo anche queste piccolezze che poi anche ci rompono le palle per ogni cosa figuriamoci per questa però nota di merito ancora una volta per Barella scusate non riesco a parlare perché sono di una stanchezza allucinante che come ha fatto lunedì ha fermato i cori per Teo Hernandez ha fatto una cosa bellissima i cori facciamoli per noi non contro gli altri poi vabbè ci sta il chi non salta rosso nero è anche lì c'è la Noglu fantastico ad aizzare noi a fare chi non salta rosso nero è sto andando molto abbraccio perché è veramente stata una festa meravigliosa doveva arrivare alle nove e mezza la squadra invece è arrivata un'ora dopo c'era anche Mirko Mengozi che saluto se dovesse guardare questo video e nulla ha parlato anche Beppe Marotta ha parlato Simone Inzaghi hanno parlato tutti i protagonisti di uno scudetto storico arrivato nella maniera più bella possibile e qual è il futuro adesso ha parlato Ausilio in questi giorni ha detto che in teoria si vorrebbe tenere la squadra di quest'anno e cercare di puntellare dove c'è da puntellare sono d'accordo col buon Piero chiaro che se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per qualcuno della Rosa si prenderà in considerazione io resto fedele alla mia idea non si possono prendere giocatori di una certa caratura teniamoci big o anche cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile comunque con Marotta e Ausilio hai dimostrato che nonostante ci possano essere delle cose rimani comunque competitivo ad alto livello quindi ho piena finuccia nel nostro management adesso godiamoci questa passerella queste ultime quattro partite e cerchiamo di portare in porto questo campionato e ragazzi questo era il video con la maglia di Turam fatemi sapere la vostra nei commenti sempre Forza Inter e iscrivetevi alla pagina per altri contenuti